Una notta taccia di vento e temporale che ha creato danni in tutta la provincia di Vicenza, da Roana a Montegaldella, da Montebello a Isola Vicentina, passando da Sovizzo, Schio, Trissino, quasi tutta l'area ad ovest del capoluogo vicentino e fino alla pedemontana. Grandine con chicchi di 6 centimetri, uno ha colpito un uomo ferendono alla testa d'Arcugnano, pioggia battente e vento che hanno spazzato via anche le tensostrutture di una sagra paesana. Sono stati una trentina gli interventi dei vigili del fuoco, con alberi caduti, pali dell'illuminazione e segnaletica stradale divelti, piccoli allagamenti. A Vicenza incontra a San Marco un fulmine innescato un incendio sul tetto di una casa di interesse storico, mentre un automobilista è stato salvato dopo essere rimasto bloccato dall'acqua in via dell'edilizia. A D'Arcugnano la guaina del tetto di un'azienda è volata via, mentre le rotoballe ammassate su un campo sono state trascinate dal vento lungo una strada del paese. Ma la situazione più preoccupante ha riguardato l'area dell'incendio dell'Aisello Vernici di Brendola, dove il temporale ha spazzato via le barriere anti-inquinamento. L'acqua piovana è inquinata, quindi raggiunto il fiume Brendola e in particolare Zimella, dove si sono registrate morie di pesci. Immediato l'intervento per evitare che l'acqua raggiungesse i canali di irrigazione e di qui tutta la pianura. Dighe di parni assorbenti sono state posizionate in zona e proseguono i rilievi dell'Arpav per monitorare i livelli degli inquinanti. La protezione civile sta continuando ad operare dalla notte e le conseguenze peggiori dovrebbero essere scongiurate. C'è stato allarme anche per quanto riguarda la presenza di diossina. L'Arpav ha diffuso i dati che non rilevano pericoli particolari per l'ambiente.